E' morta dopo una settimana dall'incidente che l'ha vista coinvolta. Si tratta della pensionata 52enne Rita Tagliareni di San Giovanni Gemini. La donna, lo scorso 7 agosto, fu investita in pieno da una Fiat Punto, guidata da una 43enne risultato positivo all'alcol test. Per diversi giorni è rimasta ricoverata al reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo. Adesso, per il professionista alla guida della Fiat, l'accusa è di omicidio colposo. Ancora aperte le indagini da parte dei carabinieri per accertare l'esatta dinamica del fatto.